Vito, oh Vito! Che c'è che vuoi? Vedi che c'è Barresi al telefono che dice che ti stanno aspettando in riunione tutte le famiglie di Nova Yorka Non vedi che sto lavorando a maglia e poi sta cominciando il carcionauta io me ne fotto da Barresi Don Barresi niente, questo oramai sei un coglionito ora si è fassato che deve fare le calze da lana per i figli di Michael e ora sta cominciando poi la giasmissione, il carcionauta e non si muove!